Salve a tutti e bentornati su Levestep Allora, oggi andiamo a continuare il tutorial sui rack qui all'interno di Ableton Quindi andiamo a prendere di nuovo il rack che abbiamo salvato, questo qua prova E andremo a vedere alcune funzioni avanzate Ecco qua già abbiamo tutta questa serie di effetti, tutto quello che ho fatto io Abbiamo fatto nel video precedente, vi consiglio ovviamente di vedere il primo video e poi continuare con questo Allora, qui a sinistra di ogni rack abbiamo tre tipi di viste Praticamente con questo andiamo a nascondere i dispositivi, in questo caso è tutto, vedete E sarà comodo vedere solo questo Oppure doppio clic e andremo a nascondere, ecco qua in questo caso Così direttamente abbiamo tantissimi rack diversi, tantissimi effetti Possiamo semplicemente nascondere così Oppure il tasto più, tasto meno, quindi abbiamo tre possibilità O cliccare qui, oppure fare il tasto più, il tasto meno Oppure possiamo direttamente doppio clic e possiamo nascondere Posso ora semplicemente, velocemente copiare con ctrl più c, ctrl più v Qua, vedete Ovviamente questo non lo posso duplicare Perché già abbiamo all'interno un instrument Quindi non posso duplicarlo, non posso averlo successivamente a questo rack Però posso duplicare questo strumento e posso creare dei layering all'interno di questa traccia MIDI Adesso vi farò vedere come Praticamente cliccando qui abbiamo qua, si aprirà appunto quest'altra schermata Dedicata alle catene È come se avessimo appunto queste tracce qua Vedete, all'interno di questo rack Qui adesso possiamo creare delle nuove catene Ad esempio, io faccio clic destro Crea catena Perfetto È come se avessi creato un altro rack Però questo è vuoto, vedete Vi consiglio di scrivere qua il nome così non vi confondete Ad esempio qua posso mettere ora il silent Silent, eccolo qua Eccolo qua E lo metto qua Praticamente ora ho massive e silent Su queste due catene Potevo fare direttamente, invece di fare clic destro e creare catena Direttamente portarlo qui sotto E già mi crea automaticamente una nuova catena Se io vado a suonare questa traccia MIDI Sta suonando sia il silent che il massive Il massive però ha questi effetti E il silent no Qui abbiamo anche qua, come una traccia che abbiamo qua sull'arrangement Possiamo mettere in solo In solo solo il silent In solo solo il massive Possiamo mutare Possiamo pannare E possiamo abbassare il volume Volendo possiamo anche sostituire un rack Velocemente Possiamo caricare un altro tipo di rack Possiamo appunto clic destro Possiamo già creare tipo Possiamo cambiare il colore Come una normale traccia Cliccando col destro posso rinominare Posso duplicare, eliminare, copiare, incollare E qui posso mettere ora tipo un effetto E posso mixare questo diversamente Eccolo qua Posso mixare questo Ora potete dire sì Occhialo li faccio sempre così Laring invece di farli qua Qui vi permettere direttamente con una traccia Creare una clip MIDI E suonare contemporaneamente due strumenti Altrimenti dovremmo creare due clip diverse Su due strumenti Su due canali differenti Qui invece abbiamo tutto così Ovviamente è un buon casino Perché da una volta dobbiamo cliccare Andare su questo E mettere in solo Mettere una serie di effetti Abbiamo pro e contro Come ogni cosa Soprattutto perché Se io qui voglio aggiungere altre note Non posso farlo Perché appunto Con una sola clip MIDI Andrò a suonare tutte e due Invece con due canali differenti Posso aggiungere altre note qui Posso cambiare l'ottava Eccetera eccetera Ovviamente se devo cambiare qui L'ottava Voglio farla più alta Prendo su MIDI FX Pitch Lo vado a mettere Prima del dispositivo Quindi il silent E posso cambiare qua il pitch E posso farlo diverso rispetto a questo Ora una funzione molto particolare Che abbiamo sempre qui all'interno della catena Praticamente sono Il chain Velocity E key Cosa sono queste tre cose? Possiamo nascondere Ma non possiamo disabilitare Quindi se facciamo una modifica qua E poi facciamo nascondi Praticamente le modifiche ci saranno lo stesso Questo qui semplicemente andrà a nascondere Quest'altra visualizzazione Visualizzazione è questo qua Chain Che ci permette di Vedete qua abbiamo questi rettangolini Che possiamo ovviamente dire da Fino qua E questo qua Ora ovviamente io questo lo metto uno qua E uno qua Qui sopra abbiamo Questa linea Ora messo uno qua E uno qua sotto Perché ho separato Questi due gruppi Ora io quando vado a suonare Vedete che ecco il segnale Perché qua abbiamo diciamo un meter Che ci fa vedere L'uscita di questo rack Sta uscendo solo da qui Quindi il silent non sta suonando Se io prendo questa linea E la passo qui Sta suonando solo il silent Quindi posso decidere con questa linea Grazie a queste zone ovviamente Perché se io questa zona la metto qua Tutte e due andranno a suonare Quindi questo dipende Dove lo andiamo a mettere Se lo mettiamo sotto a questo Tutte e due suoneranno Ovviamente non ha senso Perché se dobbiamo utilizzare Questa funzione De chain Ci permetterà di selezionare Vi immaginate voi Io creo qua Una clip midi Io posso già con questa linea Creare un'automazione Clico destro Ecco qua Mostra automazione Mostra l'automazione Una nuova linea Mostra modulazione Che andrà a modificare Direttamente nella clip midi Poi posso fare ritorno a default E poi altre funzioni De macro Che vi farò vedere più avanti Noi facciamo una nuova linea Ecco qua E posso modificare questa linea Andiamo a zoomare Vi ricordo che qui Con questa manina Possiamo vedere Perché non finisce qua Vedete Ecco qua la linea Possiamo andare a cercare la linea Talmente lungo Che non possiamo zoomare In questo modo Possiamo spostare così E quindi adesso posso suonare Questa prima parte così Vado ad abbassare Fino a cercare questa zona qua Suona questo Vedete Con la rotallina posso Vedete Cercare tutti i punti Io potevo fare anche una cosa Un po' più breve Così Ecco Sì Perché questo altro spazio Mi servirà Quando avrò Tantissime catene Quando avrò tantissime catene Io posso fare Tantantantan Fino a qui sotto e quindi posso poi spostare e creare tantissimi suoni differenti immaginate voi avere tantissimi appunto silent, massive ma anche 5 volte il massive con preset diversi e quindi posso velocemente creare delle cose random che ne so, anche lo stesso suono con effetti diversi adesso vado a cancellare l'automazione, rimuovo inviluppo vado a cercare la linea, ecco qua io posso anche per ogni nota adesso vi ricordo anche di vedere direttamente qui sotto quando si andrà a spostare, quindi posso fare così se io metto magari lo stesso massive duplica lo stesso silent scusate, lo metto qua adesso dopo, magari ci cambio preset qua ad esempio vado a mettere questo clic destro, su uno spazio vuoto possiamo eliminare ma questo non ci andrà a eliminare direttamente la catena o posso fare un'altra bellissima funzione distribuisci intervalli uniformemente quindi ce li crea direttamente lui zone automatiche così andrà appunto lui a prendere spazi vuoti adesso però si andrà a sballare anche l'automazione però lo facciamo distribuisci, distribuisci, vedete? possiamo fare di nuovo clic destro e possiamo fare medio, grande così possiamo appunto avere una visuale un po' più dettagliata andiamo a mettere questo qua e questo qua e possiamo anche creare dei fade praticamente, ecco andando su questo punto qua in alto se andrà a selezionare questa linea bianca possiamo trovare questi fade per non fare una cosa direttamente appena passa da questo a questo fa una cosa un po' più morbida una specie di dissolvenza vedete? quindi così vedete che poi il volume è più basso perché appunto andrà a fare una cosa dolcemente in questo caso non è molto comodo però se noi utilizziamo questo qua lo possiamo mappare con un controllo ad esempio abbiamo un knob ad esempio nella nostra tastiera io posso mapparle quando vado a spostare vi faccio vedere subito mappa, mappa mappatura midi adesso non mi mappa niente perché su preferenze midi e devo dire remoto clicco qui perfetto esco ecco vedete? io faccio una cosa graduale quindi quando passo così mi va a fare una cosa più dolce senza farla subito netta in questa linea possiamo mapparla possiamo creare l'automazione possiamo fare quello che vogliamo noi quando faccio invece nasconditi vabbè faccio così non mi interessa oh tutto ancora resta quindi se poi io una volta mamma mia ho detto ma che cazzo succede non funziona più perché mi suona solamente il massimo come in questo caso cosa è successo? ma come mai? il fatto era che poi su chain praticamente avevo creato questo casino qua poi semplicemente per ritornare come prima posso portare questo così posso eliminare clicc destro l'automazione elimino l'automazione riporto questa linea qua questo suonano tutte e tre contemporaneamente nascondi e siamo a posto quindi questa è la funzione che appunto lascio sperimentare a voi perché ripeto si possono fare tantissime cose questa cosa possiamo trovarla anche su su un gruppo di effetti questi sono tutti gli strumenti ma anche con gli effetti appunto il riverbero il delay ma possiamo farlo anche prendiamo tipo un il riverbero e un delay gruppiamo questi due ctrl più g posso fare così posso creare una nuova catena qua metto solo il riverbero e qua metto solo il delay qua la metto così e quindi anche qua avrò ovviamente sulla visualizzazione catene chain abbiamo solo chain invece qua abbiamo anche velocity che vi farò vedere adesso poi adesso andiamo a mettere anche qua andiamo a spostare questi rettangolini così potrei fare anche clicc destro e faccio distribuisci intervalli vedete me lo fa lui automaticamente e lo posso fare se metto come effetti come effetti un po' più particolari tipo il redax questo qua beat repeat su quest'altro qua questa funzione qua è molto comoda per le live quando dobbiamo suonare dal vivo possiamo fare come ho fatto vedere prima posso gruppare questo qua e posso già direttamente mettere effetti diversi quindi io posso duplicare questo e fare un'altra impostazione diversa del beat repeat con altre impostazioni posso anche fare l'automazione come ho fatto vedere prima ovviamente non vi ho fatto vedere nel video precedente che possiamo gruppare anche all'interno di un gruppo almeno qui possiamo farlo quindi se ad esempio voglio gruppare tipo che ne so qua sul massimo ho messo questi tre posso fare tutte e tre voglio gruppare anzi tutte e due ctrl più g io ho gruppato questi e qua posso creare adesso vedete audio effect rack perché ho gruppato gli effetti quindi ho messo un audio effect rack all'interno di un instrument rack su instrument rack posso a sua volta creare anche qua effetti vedete io a certe volte gruppo anche per bypassare così in modo velocemente tutto quanto senza dover ogni volta selezionare questi due poi fare il tasto 0 per disattivare invece direttamente disattivo il gruppo e faccio prima andando sempre qui su velocity invece che possiamo fare la stessa cosa come abbiamo fatto con chain però adesso intervenendo sulla velocity quindi cosa possiamo fare posso adesso non c'è più il selettore come ho fatto vedere prima ma semplicemente queste linee qua che posso anche qua clicca adesso sui distribuisci questi numeri qui sopra sono praticamente il valore della velocity da 1 a 127 quindi significa che se mi metto a 96 qua sul midi mi suonerà il terzo diciamo la terza catena vi faccio vedere andando qui adesso mi sta suonando solamente andiamo a zoomare qua la velocity perché si trovava qui sotto sta suonando solamente il sine c'è solamente questo silent vedete mi indica qua perché se io sposto attivando anche qua le cuffie per ascoltare vedete io sposto le velocity in base al valore delle velocity mi va a spostare anche le catene perché ho scelto poco fa come potete vedere prima con quelle zone qua suona questo perfetto qua voglio far suonare questo e qua invece voglio far suonare il primo ovviamente questo lo posso spostare vedete c'è il numero sotto che dice in quale valore è di preciso e posso anche ovviamente creare un layering da 72 fino a 127 quindi quando suonerà il valore 72 delle velocity suonerà anche la seconda catena anche qua posso tirare delle dissolvenze per farlo in modo più dolce adesso abbiamo chi dove qua all'interno adesso possiamo abbiamo una specie di piano roll dove qua invece possiamo decidere splittare per ogni ottava per ogni nota come vogliamo noi ragazzi vedete io appena sposto di sotto c'è scritto appunto quale nota è io mi sposto ad esempio da c e facciamo così guardate facciamo da c1 questa prima catena fino a allora facciamo così clicca adesso facciamo meglio così vedo meglio tutto quanto fino a ok fino a qua posso fare anche direttamente anche qua distribuisci vedete lo fa modo automatico però mi va a suonare una nota abbastanza bassa me la voglio spostare io adesso cosa mi sta suonando solamente la terza catena perché perché appunto la nota f3 nel 3 sono appunto in questa in questa ottava qua quindi se io metto adesso il c c2 suonare alla seconda vedete vado qua ad esempio c2 qua posso scrivere direttamente vedete già mi suona questo anche qua possiamo creare le salvenze e sono le tre funzioni che abbiamo qui all'interno delle catene quindi questa è la vista dedicata alle catene in questa vista catene abbiamo appunto le catene facciamo fin da che sono delle tracce e qui possiamo vedere i dispositivi quindi io sposto qua e ho questo rack dedicato a questa catena possiamo fare adesso nascondi vedete posso visualizzare qui posso vedere i dispositivi e qua posso vedere le macro che vi farò vedere in un altro video ovviamente possiamo anche gruppare questi tre queste tre catene possiamo grupparle ctrl più g vedete ho creato un altro gruppo su un altro gruppo adesso ho questa catena unica appena clicco questa catena andrò a visualizzare queste altre tre catene è come quando io gruppo qua questi tre strumenti così ho gruppato però all'interno di questo gruppo ho altre tracce io infatti questo qua ad esempio potrebbe essere un gruppo dove appunto ci sono queste tre catene posso salvare direttamente da qua posso rinominare qua l'etichetta rinomina una cosa che non dovete mai confondervi è il fatto di quando io seleziono questa catena facciamo ad esempio questa io prendo un effetto dove lo devo mettere in pratica se io lo prendo questo equalizzatore lo metto direttamente qua andrà appunto a collocarsi direttamente alla fine dell'ultimo effetto ad esempio lo metto qua infatti alla fine di questo altro equalizzatore se lo voglio invece mettere io praticamente devo metterlo qua perché se lo metto qua lo metto alla fine dell'istrumento d'arco quindi sarà un'equalizzazione generale per tutte e tre e ragazzi se avete qualche dubbio se non avete capito qualcosa come al solito nei commenti lasciate un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale condividete anche se siete iscritti condividete il video io vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo al prossimo tutorial vi auguro una buona giornata e una buona musica ciao a tutti